Un saluto a tutti da Snookies e ben ritrovati in un nuovo video, questa volta è un micro video per dirvi che ho creato, dopo un po' di brutte avventure in vari clan, il mio clan ragazzi di Omega Esports. Sono soltanto io al momento, ho provato a invitare tipo una decina di persone random, ma praticamente non facevano nulla e le ho espulse tutte quante. Quindi chi volesse entrare è il benvenuto, mi pare il clan è aperto, lo potete trovare semplicemente mettendo il nome del clan Omega Esports e siete benvenuti prima voi, prima di iniziare a cercare altra gente, soprattutto è difficile capire chi sono gli italiani e chi no, quindi poi si crea un casino. Chi volesse il benvenuto e così ci facciamo, insomma, solo però chi è veramente attivo, non chi giochicchia, chi poi non gioca, chi molla, eccetera. Chi davvero ha voglia di stare in un clan che ragazzi punta all'ascesa dell'Olimpo di Clash of Clans è il benvenuto e quindi per questo piccolissimo video non ho altro da aggiungere, lasciate un bel like e soprattutto venite nel mio clan e ovviamente ci becchiamo nel prossimo video. Grazie a tutti.